Marella! Ma lei... Non è quello... Si giri, su! No, non è il giro. Si giri! No, no, non è il giro. Si giri! Lei, non è quello che ha accompagnato ieri qui il matto che assomiglia al padre dello stesso? Ma io... Non ho mai accompagnato nessuno qui al manicomio. No. E lei... Si giri, su! Lei, non è quello che ha venuto ieri con questo signore? No. E allora... Se non avete accompagnato nessun matto... No. 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 Se la zia... Di mia figlia sta bene? Si. 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 Se mia sorella... Non è morta. No! Non è morta! Che cosa venite a fare tu alle 8 del mattino? Papà, sono tornata! La zia sta benissimo! Avete sentito? Sta benissimo! Allora... Di quale zia parlavate? Della zia del fuggito del franello di mia zia? O della peste che non vi uccide? Ciao, Carla! Come stai? Armira! Ero venuta a dirti che mia zia è molto assanata. Si, nostra zia! La mia è di Carla! Il professore ci ha fatto rincretinire affermando che sua sorella è la nostra zia e che tu è andata la nostra zia. Io ho detto! No!